Quindi io chiamo uno di quei numeri, 06, e poi? E poi senti un messaggio registrato con la voce di una donna che ansi... Posso chiederle di fare delle cose? No, tutti ascoltano la stessa registrazione nello stesso momento. Diventeremo ricchi! È una pessima idea. Tolgo l'asciugamano d'adosso e mi sdraio. Faccio scorrere le mani sul mio corpo. Ok, Marley. Potresti renderla più sensuale? Sensuale? Nessuno mi aveva mai parlato di sesso. Perché lo facciamo? Perché lo desideriamo? Cosa ci fa qui in questa portiera? Lo trovate davvero eccitante? Tenete, vi servirà. E comincia a slacciarti i pantaloni. Ti metti sdraiato sulla schiena. Volete un po' di crema? 30 chiamate, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. Siamo ricchi! Pensiamo, dato il successo del vostro servizio, di aumentare le linee, passando dalle attuali 20 a 300. Potreste anche suddividere queste linee in una linea infermiera, una linea hostess, una linea sadomaso. Marley Salomon, chiudi subito quella boccaccia. È questo che ti abbiamo insegnato? All'improvviso ero diventata l'esperta. Un applauso per Marley! The winner takes all. Quello che facciamo è il futuro, non ci sarà una fine. Tear down this wall. Welcome to the revolution, baby. Ta-da! L'appetite ci ha tagliati fuori. Che vuol dire tagliati fuori? Il capitalismo sta vincendo, ma solo se facciamo soldi. Un sacco di soldi! Se te ne vai adesso, la tua vita resterà esattamente con me. Cosa hai paura di perdere? Tutto.